Torna anche quest'anno la competizione cittadina in cui i partecipanti si sfidano a suon di senso estetico e amore per le piante e la natura, oltre che per la città e il suo centro storico. Giunge alla sesta edizione, infatti, il concorso Balconi Fioriti, fiori di particolare pregio. Tutti i cittadini possono partecipare in modo gratuito, semplicemente condividendo, entro il 30 giugno, sull'omonima pagina, uno o più scatti del balcone, finestra, cortilo, persino vicolo, in cui le piante e fioriere vengono posizionate ed esposte. Scopo del concorso, si legge, è rendere l'aspetto della città più elegante e piacevole, sia per i residenti che per i turisti che la visitano, arricchire il valore architettonico del centro storico, promuovere la cultura del verde come elemento di decoro e valorizzare, si legge ancora, luoghi caratteristici abbandonati e o degradati. Nel mese di luglio si svolgeranno le votazioni e durante una pubblica manifestazione verranno premiati i vincitori. Non ci saranno premi in denaro, ma soltanto delle targhe per i primi tre classificati e attestati per tutti i partecipanti. L'organizzazione, infatti, ringrazierà gli stessi per l'amore, l'interesse e il senso civico dimostrato. Quest'anno viene lanciata anche un'altra idea, il concorso Uninno per Caltanissetta. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita ed è stessa a tutti i cittadini, che potranno presentare le proprie opere sempre entro il 30 giugno. La votazione avverrà poi durante la stessa festa di premiazione.